Il Giro d'Italia è arrivato a metà strada e da Pescara siamo passati a Iesi, nelle Marche, e oggi proponiamo un piatto classico, il passatello in brodo. Gli ingredienti sono uova, limone, sale, noce moscata e pangrattato e parmigiano in uguale quantità. Iniziamo rompendo le uova, aggiungiamo pangrattato e parmigiano in uguale quantità, mettiamo un pizzico di noce moscata e l'ingrediente per fare un passatello ottimo, la scorza di un limone. Quando inizia ad essere grumoso iniziamo a lavorarlo con le mani. Ora schiacciamo i nostri passatelli con uno schiacciapatate nel brodo bollente e li mettiamo direttamente nel nostro piatto. Ed ecco qua il nostro piatto di passatelli con brodo di manzo e una buona grattugiata di parmigiano reggiano. Grazie per la visione!